biellese territorio straordinario l'italia è tutta bella sono mi hanno invitato per una conferenza sono stato nel lazio poi ho potuto vagabondare un po per il lazio per la toscana l'italia è tutta bella poi c'è una perla che si chiama biellese perché quando arrivi nel biellese vedi questo quadro di montagne che va a delimitare il nostro territorio queste prealpi biellesi ti rendi conto che qua sei in un territorio straordinario poco conosciuto ma che ha delle particolarità che sono fantastiche oggi signori vi portiamo nel comune di vigliano dove vi propongo una proprietà che è cascina che vedete che è stata ricostruita seguite questa presentazione che è stata ricostruita al nuovo pensate che questa proprietà è posta su un terreno completamente recintato di 10.000 metri quadrati completamente pianeggiante la cascina che vedete ha delle particolarità straordinarie ha già due unità abitative pronte se ne potrebbero creare altre due o tre e allora 10.000 metri quadrati un parco che è eccezionale adesso vi spiego un po di cose il prezzo partiamo dal prezzo di questa proprietà che vedrete ha delle metrature che sono qualcosa di eccezionale per questa attività chi la richiesta è di 490.000 euro però a questo punto partendo dal prezzo fermati un attimo perché sono vecchio di questo mestiere 37 anni che faccio la gente immobiliare vieni a vedere la proprietà poi del prezzo ne parliamo ma vieni a vedere questa proprietà tu che vivi in queste grandi città in questi loculi dove il lo vedi e non lo vedi qui partendo da 490.000 euro ti propongo un paradiso ma andiamo a vedere di cosa stiamo parlando prima di tutto guardate qui è collocata la proprietà che vendiamo noi oggi vedete il cursore questo è l'asse e l'autostrada che collega torino a milano eccoci qua la torino milano e qua quindi sei veramente a un tiro di schioppo per arrivare a milano per arrivare a torino alla rete autostradale e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando parto dei tetti come tutto il resto della proprietà che adesso vedremo tutti i tetti sono nuovi è una proprietà in cui puoi solo ampliarla puoi sfruttare quello che c'è per fare altre unità abitative ma andiamo a vedere un po di numeri abbiamo un'abitazione padronale che è di 240 metri quadrati un alloggio al piano terreno che è di 60 metri quadrati quest'alloggio ha un portico coperto di 35 metri quadrati l'unità padronale di 240 metri gode di un terrazzo di 35 metri quadrati poi abbiamo una stalla di 165 metri quadrati che è stata rigenerata ed è pronta per essere ultimate vedrai che spettacolo poi abbiamo un fienile di altri 165 metri quadrati una rimessa di 40 un deposito trezzi di 40 metri quadrati e come vi ho detto un terreno di 10.000 metri quadrati pozzo che va in una foto adesso che verrà fuori lo vedrete oltretutto un impianto di innaffiamento che attinge acqua dal proprio pozzo su tutto il parco pannelli solari caldaia condensazione ed è fornita dal metano andiamo a vedere dall'alto la proprietà allora vedete il cursore questo è il limite della proprietà che parte da questa zona arriva giù fino a questa parte qua delimita la proprietà questa recinzione che poi risale in questo punto e va a unirsi alla parte centrale è completamente indipendente ripeto sono 10 mila metri quadrati di terreno e vedete queste sono le stalle il fienile questa è la villa che è stata ultimata da poco adesso vi faccio vedere è completamente indipendente ma come vedete da questa foto non è isolata ci sono altre abitazioni vicine a questa proprietà ma siete completamente indipendenti villano biellese via milano guarda ecco il pozzo di cui vi parlavo che è questo da cui si va ad attingere acqua vedete il giardino tutta questa parte un parco è un grinda golf viene alimentato c'è un computer che va a distribuire l'innaffiamento su tutto il parco che avete sul fronte della casa proseguiamo andiamo a vedere di cosa stiamo parlando questo è l'ingresso dell'unità dell'unità padronale come vedete è stato rifatto tutto nuovo arrivati nella zona giorno che è messa al primo piano abbiamo un salone ma per salone io non intendo quel salone da quattro metri per sei che sembrerebbe già grande in questo salone guardate una sala da ballo nel salone poi abbiamo un cammino a lenta combustione e adesso andremo a vedere anche gli impianti della casa eccolo qua il cammino a lenta combustione scalda tutto questo piano qua in più sono state convogliate le aree calde alla zona notte nel piano in cui arriviamo abbiamo il salone che avete visto la cucina c'è un bagno che è questo e poi abbiamo un terrazzo esterno che quello che vi dicevo eccolo qua è un terrazzo prendi sole fate conto che all'esterno del terrazzo vedete siamo in aperta campagna per cui qui non vede nessuno e avete 35 metri quadrati dove potete mangiare all'esterno mettervi a prendere sole fare quello che volete in assoluta privacy dal salone poi prendiamo questa scala aperta giorno che ci porta nella zona notte e nella zona notte troviamo un disimpegno che disimpegna tre camere da letto e due bagni di cui la camera matrimoniale che è questa che ha grandi dimensioni ha all'interno il proprio bagno in più abbiamo altre due camere e il secondo bagno che serve le altre camere andiamo a vedere adesso l'alloggio di cui vi dicevo il piano terreno quindi in questa zona qua abbiamo un'unità indipendente di circa 60 metri quadrati all'alloggio questo la sua cucina soggiorno a una camera e al proprio bagno le porte interne sono state fatte da un artigiano è un 700 piemontese sono porti in legno massello mentre i serramenti perimetrali sono tutti serramenti in legno col vetro a camera a basso emissivo e l'alloggio del piano terreno che ha 60 metri quadrati gode di questo portico coperto dove sopra abbiamo visto abbiamo il terrazzo ma proseguiamo andiamo a vedere vi ho parlato della stalla fermiamo fermatevi un attimo e guardate la stalla la stalla signori è un'opera d'arte in pietra e mattone è stata rifatta completamente guardate che spettacolo i solai allora il pavimento il pavimento è stato scavato tutto si è fatto un sopra abbiamo messo hanno posato gli igloo e poi fatto un solaio sopra la volta che vedete è stata completamente sabbiata è un locale guardate che spettacolo guardate i capitelli vedete i capitelli gli appoggi per le travi che sostengono la volta sopra il mattone è pronta tutta quest'area qua per essere divisa e si può creare qui un'altra unità abitativa hanno portato all'interno dei pavimenti già tutti gli impianti questi tubi che si vedono in questa zona qua sono i vari scarichi e cariche dell'acqua e le condutture che possono portare l'impianto elettrico in questa zona a questo punto sarebbe da dividere per come volete dividerla creare sono 165 metri quadrati potete creare l'unità che volete vengono tranquillamente fuori tre camere da letto due bagni cucina e salone ed è veramente uno spettacolo di architettura la cascina del 1800 andiamo a vedere la parte sopra questo come vi ho detto tutti i tetti sono nuovi il solaio sopra è stato rinforzato per cui anche questo adesso è pronto per essere ultimato i tetti il tetto è stato rifatto ma hanno mantenuto le capriate del 1800 quindi anche questa parte qua nel finirla avreste un'altra unità di 165 metri quadrati tetto nuovo e le capriate che sono le sue originali guardate che spettacolo tutta esposta a sud altri 165 metri quadrati addirittura pensate che il terreno è 10.000 metri quadrati nella foto che appare adesso avevano due box per i cavalli e avevano delimitato un'area di 2000 metri dove i cavalli potevano entrare uscire in assoluta autonomia quindi se hai un cavallo o se la tua passione è quella qui puoi veramente avere qualunque cosa è un paradiso terrestre il pozzo di cui vi ho parlato poi abbiamo una rimessa aperta un locale deposito loro qui depositano gli attrezzi per il giardino ma può essere un'altra auto rimessa andiamo a rivedere le metrature 240 metri quadrati di alloggio padronale 60 metri quadrati l'alloggio al piano terreno portico 35 terrazzo 35 balcone nella zona notte 15 metri quadrati stalla fienile 165 metri quadrati ognuno rimessa di 40 metri 40 metri deposito e abbiamo i 10.000 metri quadrati di terreno completamente recintato pozzo pannelli solari caldaia condensazione alimentata a metano un impianto di innaffiamento che viene alimentato dal pozzo ed è computerizzato assieme alla casa chiaramente ci sono le varie attrezzature tra cui il trattorino con cui sfalciare l'erba allora guardate la richiesta sono 490.000 euro intendiamoci la richiesta vieni a vedere questo immobile non credere a quello che ti dico alza il telefono vieni a vedere che spettacolo è questa unità dove quattro famiglie se non 5 o 6 possono vivere in assoluta autonomia in un angolo di mondo che è veramente qualcosa di estremamente particolare e unico 6 a 5 minuti dal centro città di Biella se calcoliamo di fare un mutuo su questa proprietà calcolando che i tassi di interesse stanno lievitando oggi abbiamo un indicizzato il 3 per cento puoi mutuare su questa proprietà l'ottanta per cento quindi abbiamo 390.000 euro che possono essere mutuati equivale a una rata mese di 1840 euro e quindi hai un apporto personale di 100.000 euro oggi con 100.000 euro e un mutuo poi se siete più famiglia non abbiamo difficoltà anche arrivare al 90 per cento di mutuo oggi con 100.000 euro e portato a casa un paradiso in una zona fantastica e i collegamenti per arrivare a milano torino a rete autostradale sono veramente comodissimi questo signori è parte del nostro organico noi ci organizziamo avete i vostri tecnici bene altrimenti noi dallo studio tecnico l'assicuratore dal commercialista all'avvocato da chi si occupa di mutuo e quant'altro siamo presenti se non sei del biellese fermati fermati un secondo guarda poi non credere a quello che ti dico vai a controllare se la cosa è vera o no vai a vedere lo spettacolo che è europa santuario mariano d'europa il ricetto di candelo lago di viverone tutte zone che tu sali in macchina in un quarto d'ora le hai tutte lì vicino le camminate che possiamo fare nel biellese nelle nostre montagne rosazza che è stata definita la rende chateau italiana il parco naturale della bessa l'impero romano nel 200 a.c mise lì 5000 persone che per 200 anni hanno estratto oro e tuttora vediamo quello che avevano costruito le vie ferrate che puoi fare nel biellese biellese è un territorio straordinario l'italia è tutta bella poi arrivi nel biellese dici cavolo lo zuppi dice che è il biellese un territorio straordinario e questo mi conforta dal fatto che tutte le persone che poi comprano e vengono a vivere nel biellese mi dicono hai raccontato delle balle perché non è bello quanto tu hai detto è molto più bello il biellese il biellese veramente belle offre delle opportunità di investimento che sono straordinarie ma vai a vedere il parco naturale della baraggia vai a non dico nulla vai a vedere uno dei parchi più belli d'italia se non il più bello in assoluto il parco della burcina vai a vedere che cos'è l'oasi zegna su questa mi fermo sempre perché alcuni sono venute delle famiglie da milano proprio sono venuti a fare la ferrata dell'infernone che è una ferrata facilissima vai a fare la ferrata dell'infernone che è assordevolo porta con te i tuoi bambini e passerai una giornata che è veramente indimenticabile poi ti fermi nel biellese fai il giro dei castelli del biellese poco conosciuti poi con quello che hai risparmiato nel comprare a casa nel biellese ti compri tutte le biciclette pedalata assistita che vuoi e con la tua bicicletta puoi andare in posti come questi l'ho fatto anch'io ho comprato una bicicletta benché sono nato qua sto scoprendo degli angoli del biellese che ogni volta che prendo la mia bicicletta e pedalo in questo biellese dico veramente siamo fortunati perché noi viviamo in una zona che è un paradiso vieni a vivere nel biellese tu sei in ferie 365 giorni all'anno inoltre nel biellese abbiamo i prezzi più bassi d'italia in uno dei luoghi che è tra i più belli d'italia ed è poco conosciuto una casa così messa in una periferia di milano che già mi viene l'ansia a pensare a queste zone costerebbe più di un milione oggi noi richiediamo richiediamo ci intendiamo 490 mila euro vieni a vedere la casa sono vecchio del mestiere ci sediamo un tavolino andiamo a vedere di quanto effettivamente poi stiamo parlando se non ci conosci su tutti i canali social ci trovi come abita biella agenzie immobiliare silvio zoppicchiati ci trovi come biellese territorio straordinario che una nostra community dice iscriviti ci sono più di 4000 persone o come studio associato movie real estate vai a fare un giro nel nostro sito da casa tua tranquillamente senza muoverti tu entri nel nostro sito vedrai che tutto dedicato al mondo dei video ogni proprietà che noi proponiamo hai un video clicchi sul video alla fine di questa presentazione ci sarà link clicca lì e vai a vedere il video della casa che della proprietà della proprietà che ti stiamo proponendo oggi nel biellese di cui mi ripeto la richiesta è 490 mila euro non lo dico più ma sono vecchio del mestiero 61 anni faccio questa attività dal 1986 svolgo questa attività dal 1986 nel 1976 lavoravo in cantiere con mio padre per dieci anni ho costruito e mi sono creato un tutta una parte di conoscenza che è importantissima sugli edifici dopodiché mi sono messo a fare il commerciante di immobili proprietà come queste non ne trovi in giro è qualche cosa di particolare l'energia che ha questa cascina perché poi è una cascina del 1800 che è stata come hai visto rifatta al nuovo è veramente molto particolare questa signori è la nostra sede siamo in biella via torino 61a e siamo qua signori da 37 anni e come vi ho detto io da 47 anni lavoro nel settore immobiliare oggi vediamo su youtube ragazzi di vent'anni bravi perché hanno voglia di fare ti spiegano una cosa l'altra come io sono 47 anni che vivo nel settore immobiliare ho scritto un libro come comprare case e vivere di rendita teniamo conferenze facciamo dei corsi parlo per esperienza maturata su questa professione poi noi vendiamo case prevalentemente nel biellese in liguria in alta savoia e vendiamo case anche a lugano ma questa proprietà signori è qualcosa di straordinario come il nostro biellese questo è biellese queste sono le nostre palestre che non costano assolutamente nulla e oggi forse ti abbiamo dato lo spunto per cambiare vita per vivere in qualche cosa che è l'eden perché in una zona così veramente una volta che l'hai comperata sei in ferie tutto l'anno e quando arrivi a casa la sera il cuore ti si riempie di gioia in assoluta assoluta autonomia e tutto questo lo puoi fare oggi con soli 100 mila euro ma molto probabilmente sono tanti meno perché sul prezzo ci facciamo poi un ragionamento stiamo ricercando signori delle ville d'epoca e questo lo dico per chi abita nel biellese perché ultimamente stiamo vendendo guardate questa villa maria venduta a due famiglie di milano che sono venuti a vivere nel biellese che quando mi incontrano mi dicono silvio sei un bugiardo perché hai detto che il biellese è un territorio straordinario è molto più bello di quanto stai dicendo tu villa rolando venduta anche qui gente che arriva dalla toscana qui avevamo una villa graglia del settecento questa è l'unica che abbiamo venduto dei biellesi villa magnani signori questa qui avevamo creato una giornata abbiamo portato abbiamo fatto un open day chiamando dei teatranti dei musicisti 650 persone una giornata l'abbiamo venduta a una famiglia che arriva dalla valtellina villa viglia signori villa viglia una storia incredibile l'abbiamo venduta ad un architetto della bocconi la quale venuta a biella vedendo i nostri video mi dice ma cavolo io pensavo che il biellese erano risaie e mobilifici ma qua avete un paradiso terrestre e certo perché di questa è la villa di masserano chi segue le nostre presentazioni l'abbiamo venduta anche questa ad una famiglia di milano che si è innamorata del biellese si è fermata nel biellese ha fatto un giro e poi ci ha detto consiglio dove dobbiamo firmare se hai una villa d'epoca e stai cercando di venderla ti prego contattaci perché noi abbiamo clientela referenziata e poi il bello è che quando noi lavoriamo con persone che arrivano da milano da torino che è arrivato dal toscana abbiamo venduto anche dei polacchi a dei genovesi che hanno comprato casa qua loro hanno in mente un altro mercato e quindi i nostri prezzi per noi biellesi potrebbero sembrare ma sono un po carico chi arriva da fuori mi dice ma dov'è l'inghippo come fai a vendere a questo prezzo se è una villa se è una villa d'epoca che li ferma con le quattro frecce alzare il telefono chiamarsi fare una chiacchierata costa il doppio di niente e ti spieghiamo come stiamo lavorando se questa presentazione ti è piaciuta ti prego lascia un like noi abbiamo come avete visto canali youtube abbiamo stiamo creando una nostra rete ma solo qui in in questo canale abbiamo più di 5 mila persone che seguono le nostre dirette quindi sai una casa da vendere e che ferma che hai hai un parco la casa bella fare pubblicità nei giornali locali è limitata questa zona stiamo arrivando in tutta italia come ho detto prima pensate che un nostro video è arrivato in polonia e dei polacchi sono venuti a comprare case perché di biella a case code voi immaginatevi non solo tempo fa un video nostro arriva in cina un grande imprenditore cinese arriva biella che non sapeva né perché lui conosce milano di biella è arrivato biella a vedere delle proprietà perché il video che abbiamo fatto è arrivato in cina signori non vi tedio più per biellese territorio straordinario noi di abita com'è sempre in movimento ciao ragazzi